Armando Cirilo è fondatore di PCD Ideas, vorremmo chiedere come procede l'attività della società? Noi stiamo in questo momento lavorando ad un progetto con il Comune di Roma e proprio domani presenteremo insieme ad Ipsos alcuni dati sul turismo. Abbiamo condotto una ricerca in America, Giappone e Germania e proprio domani presenteremo qui all'Abit di Milano i primi risultati di questa ricerca. Noi stiamo facendo una scommessa, la scommessa è la conoscenza della domanda. Le cose che noi sappiamo sul turismo sono quelle che ci dice l'Organizzazione Mondiale del Turismo e le organizzazioni che si occupano di statistica. Noi vogliamo andare un po' oltre e studiare più da vicino la domanda, proprio perché vogliamo fornire a chi deve fare la promozione degli strumenti adeguati per poter andare in giro per il mondo a promuovere, in questo caso, le realtà locali. Ma vogliamo dare anche una mano ai privati che devono fare la propria programmazione. Ecco, conoscenza della domanda, questo è il nostro obiettivo e a questo che stiamo lavorando proprio in questi mesi. E in base alla vostra esperienza, quali sono i mercati stranieri da tenere d'occhio? Sicuramente il mercato americano, perché è un mercato che sta crescendo e che può dare all'Italia nel prossimo periodo delle grosse soddisfazioni. Lo abbiamo visto in tutte le nostre rilevazioni. Proprio quest'estate abbiamo fatto una prima rilevazione dove il titolo era proprio questo. Gli italiani vanno in Salento sognando l'America. Ecco, cioè il mercato americano è un mercato che è molto importante per il futuro del turismo e quindi noi lo vogliamo tenere d'occhio. Opportunità sia per il nord che per il sud? Anche il sud si sta rilanciando in questa immagine internazionale. Sì, lo stiamo vedendo, lo abbiamo visto proprio quest'estate dove le prime regioni più gettonate, le regioni più gettonate erano proprio le regioni meridionali. Le regioni meridionali rappresentano una grossa scommessa per il turismo italiano perché possono dare tanto in termini di crescita. Bisogna lavorare sicuramente sul prodotto ma ci sono nel prossimo futuro, a nostro parere, delle grosse opportunità. Grazie e buona presentazione. Grazie.